Prendiamo il numero 0,17. Come si legge questo numero? Beh, l'ho appena detto in un modo, 0,17. Ma in quali altri modi possiamo leggerlo? Come facciamo a esprimerlo in termini di decimi o centesimi? Come sempre, metti in pausa il video e prova a ragionarci da solo. In effetti ci sono un paio di modi di leggere questo numero. Un modo è 0,17. Un altro modo è... Allora, abbiamo 1 nel posto dei decimi, quindi è un decimo. E poi abbiamo 7 nel posto dei centesimi, questo 7 qui. Allora, possiamo dire un decimo e 7 centesimi. Ecco qui, questo quindi è un altro modo. Ancora un altro modo è quello di pensare tutto il numero in termini di centesimi. Un decimo. A quanti centesimi equivale? Un decimo equivale a 10 centesimi. Quindi, invece di un decimo, possiamo dire 10 centesimi. Lo scrivo anche se può sembrare strano. Il nostro numero è 10 centesimi e 7 centesimi. Ma allora, posso sommare questi centesimi? Perché se ho 10 centesimi e poi altri centesimi, in tutto ho 17 centesimi. E allora posso scriverlo come 17 centesimi. Per convincerci che 17 centesimi equivale a un decimo e 7 centesimi, contiamo i centesimi. Un centesimo, due centesimi, tre centesimi e così via, fino a nove. Ne ho saltati alcuni. E poi... Ma a questo punto come scriviamo 10 centesimi? Beh, 10 centesimi posso scriverlo come 10 centesimi. È la stessa cosa di un decimo. Quindi, se conto 9 centesimi, ho 10 centesimi. Ma 10 centesimi equivale a un decimo. Proprio come 10 unità equivalgono a una decina. Funziona allo stesso modo. Ma continuiamo a contare. 10 centesimi 11 centesimi 12 centesimi 13 14 15 16 16 17 E 17 Spero che tu abbia più chiaro il perché questo numero si legge 0,17 oppure 17 centesimi. Tenendo questo a mente, vediamo un paio di esempi. Partiamo da un numero espresso a parole e proviamo a scriverlo come decimale. Ecco qui, l'avevo già preparato, hai visto? 4 decine e 3 centesimi. Bene. Allora, abbiamo 4 decine. Quindi, scriviamole qui sotto. Diciamo che questo è il posto delle decine. Ecco qui. Poi c'è il posto delle unità. Poi naturalmente avremo la virgola. E poi il posto dei decimi. E infine, ancora di un colore diverso, quello dei centesimi. Quindi, 4 decine e non decimi, decine. Lo mettiamo qui. Poi abbiamo 0 unità. La virgola. 0 decimi, perché non ne abbiamo. E infine 3 centesimi. Perciò, 4 decine, che equivale a 40, e 3 centesimi, 40,03. Facciamone un altro. È un po' divertente, vero? 24 centesimi. Beh, 24 centesimi. Allora, ragioniamoci. Come abbiamo visto all'inizio, possiamo scriverlo come. Ricorda, questi sono 9 centesimi. E se vogliamo più centesimi, avremo 10 centesimi. Quindi, se vogliamo 24 centesimi, scrivo 0,24. E se stai pensando, ma così ho due decimi e quattro centesimi? Beh, hai ragione. In effetti possiamo riscriverlo come due decimi e quattro centesimi. Due decimi e quattro centesimi. Ma ricorda, un decimo equivale a 10 centesimi. Quindi, due decimi equivalgono a 20 centesimi. Perciò, questo numero equivale a 20 centesimi più altri 4 centesimi. Eccolo qui. Ma ovviamente, in totale, sono 24 centesimi. I conti tornano, no?